Bella ragazzotti, non sono morto, anzi andiamo in live questa sera di sabato giusto per fare un esperimento, quindi niente di venerdì, ma questo sabato con la RetroCraft non vi posso portare oggi in live e non vi ho portato oggi in questi giorni la Seftec perché c'è avuto un problema, ve lo spiego in live, trovate il link in descrizione. E qui invece ragazzotti continuiamo il nostro farming di MC per ricordarci com'era Minecraft sette anni fa nella 1.2.5, aspetto numerosi, link in descrizione e l'armatura di Red Matter sta arrivando!